Buonasera a tutti! La Maria Cattolica! Seconda serata di divertimento! Questa sera abbiamo un po' di tutto, come sempre, ma stasera abbiamo l'orchestra del nostro Maurizio Medeo e i suoi ragazzi! Dopodiché arriverà, come ho detto in sala d'avanzo, il re dei balli di gruppo. Chi è il re dei balli di gruppo? Bruno! Chi dovrà andare sotto? DJ... Vera! E la signora Claudia! Quindi, bando alle cance, buona serata a tutti, buon divertimento! Mi raccomando, fate vedere chi siete! Sì! Buona serata a tutti! Ciao!